Una notizia più che positiva per gli studenti del Consorzio Universitario Nisseno, ma più in generale per la città di Caltanissetta. Dopo anni di attesa, entro la fine dell'anno, verrà aperta la casa dello studente, vero e proprio gioiello, nel cuore del centro storico. E' quanto emerso dall'incontro tenutosi al Consorzio Universitario, a cui hanno preso parte, oltre ai vertici dell'ente, anche gli assessori regionali Gianluca Miciche e Bruno Marziano. L'ex convento, dunque, offrirà un servizio in più per i tanti studenti pendolari che potranno soffruire di strutture adeguate. Credo che possiamo essere stasera veramente orgogliosi e felici di aver accolto l'assessore regionale all'università che ci ha dato conferma di quello che era un nostro obiettivo. Quello di aprire la residenza universitaria entro fine anno, che consentirà ai nostri giovani studenti universitari che hanno diritto allo studio, diritto all'alloggio, cosa che purtroppo nei 20 anni trascorsi dal Consorzio non era mai successo, quello di poter realizzare un percorso di sviluppo all'interno di una struttura che è quella della residenza dell'ex convento di San Domenico, che purtroppo da diversi anni ultimata è mai abitata. Questo ci consente in qualche modo di definire un piano strategico che è quello che due anni fa ci siamo dati. È emerso che c'è l'esigenza e anche la volontà di aprire entro la fine dell'anno la nuova sede universitaria che verrà affidata all'ERSU del Consorzio Universitario di Caltanissetta e questo è un fatto importante non solo in sé, perché l'università si dota di una nuova struttura per l'accoglienza degli studenti, ma anche un modo per garantire il diritto allo studio, è un modo per evitare che i nostri ragazzi trovino più conveniente andare in altre università del nord dove questo diritto viene garantito piuttosto che in quelle del meridione della Sicilia. E poi c'è da dire che la casa dello studente, l'alloggio è un elemento di identità. Io non solo studio in un territorio, ma ci vivo, socializzo, lo arricchisco con il mio sapere. Una riunione che ho fortemente voluto alla presenza del collega Marziano per confermare degli impegni presi, uno è quello dell'apertura entro il 31 dicembre della residenza universitaria che serva da impulso per rilanciare definitivamente il progetto universitario a Caltanissetta.